Allora, io mi chiamo Marco, vengo da Torino e ho 59 anni. Allora, io praticamente mi sono trovato in questa situazione, ho trascurato, devo dire, per tantissimi anni la salute dei miei denti e quindi sono degenerata, questa è degenerata. Quindi mi sono documentato e ho fatto una valutazione delle soluzioni possibili. Ho trovato questa clinica, riabilitazioni estreme, ho guardato i tipi di lavori che venivano fatti sui pazienti, i feedback da parte dei pazienti, molto positivi, e quindi ho deciso di andare a conoscere appunto questa clinica. Allora, giunto qui, appunto, in clinica, devo dire l'impressione positiva da parte, sotto tutti i punti di vista, diciamo, dall'accoglienza, la gestione manageriale, e quindi poi sono passato alla fase di consultazione medica con uno specialista, che è il dottor Alessander, che mi ha consigliato, dopo avermi appunto visitato, mi ha consigliato una soluzione che consisteva nell'effettuare un intervento, il primo intervento è mettere sei impianti nella parte inferiore e quattro impianti nella parte superiore, per poi tornare una seconda volta, per fare un innesto osseo, ho scelto la linea superior, in zirconio. Posso dire quindi che consiglierei quello che è il percorso che io ho fatto, che non è affatto una cosa leggera e che corrisponde anche a un po' alla ricostruzione della propria vita.